Spazio dello sportello del cittadino riservato all'ADOC provinciale di Taranto, siamo con il presidente Domenico Votano. L'ADOC è sensibile a particolari problematiche sociali. Penso alla ludopatia, per capirci, al vizio del gioco. Una piaga davvero inquietante, questi tanti giovani e non solo attaccati a queste slot machine che perdono soldi e forse anche il cervello. E non solo giovani, qua vediamo addirittura imprenditori legati al gioco che si giocano la propria attività, i propri soldi, la propria famiglia. Vediamo addirittura casalinghe in fila davanti a queste ricevitorie sparse in tutta la città di tutti i tipi, di tutte le situazioni. Tanto è vero che c'è un progetto, viene chiamato Salva Famiglie, di carattere nazionale, in cui cerca, studia la situazione, studia questa malattia vera e propria, che proprio si chiama ludopatia, ha progetti per cercare di sensibilizzare le famiglie, i giovani, a non entrare in questo circuito così vizioso in cui non se ne esce assolutamente. La gravità è che il ceto più colpito da questo genere di malattia è il ceto basso-medio. Chi è basso, chi ha pochi denari e cerca di trovare la felicità, cerca di trovare la vita migliore investendo i pochi denari che hanno in questa... Vedo per esempio le sale bingo che pullulano di disperati. Disperati, ma d'altronde la cronaca porta anche a vedere gente che cerca soldi all'interno della famiglia, quando gli viene negato scatta la violenza perché devono andare a trovare i soldi... E' una droga vera e propria, la dipendenza. Tant'è che purtroppo è entrata anche nell'ambito sanitario, del sistema sanitario, con dei centri particolari per cercare di curare questa malattia. Un mio consiglio, lasciate perdere il gioco, lasciatelo perdere, volete tentare una volta, ma non entrate in questo circolo vizioso, si perde la famiglia, si perde il lavoro, si perde la vita.